Sono circa un centinaio le birre di 17 birrifici italiani di cui metà campani e metà invece del panorama nazionale sempre nello spirito di confronto con quelle che sono le realtà extra regionali. Vicino alle birre di alta qualità che sono presenti all'interno della manifestazione troveremo anche delle postazioni food. La gastronomia napoletana conosciuta nel mondo, quindi abbiamo per esempio i cuzzitielli, abbiamo il tarallo sugne e pepe e anche tutte le altre varianti. Abbiamo le polpette al ragù, abbiamo i dolci tipici dei quartieri di Napoli. Sabato e domenica a Castel dell'Ovo la prima edizione di Napoli Beer Fest, un appuntamento sulla birra artigianale patrocinato da Comune di Napoli, Union Beer Rai, l'associazione dei piccoli birrifici indipendenti e confe sercenti. Oltre i 17 birrifici artigianali campani e italiani, presenti anche eccellenze dell'enogastronomia campana, con laboratori di degustazione e tavole rotonde incentrate sul movimento brassicolo italiano. La prima edizione di un momento che ci vedrà protagonisti con la città di Napoli, il primo evento con protagonista la birra di caratura nazionale, che verrà ospitata in una delle nostre location più suggestive, che è quella del Castel dell'Ovo, che sarà in grado di fare una fusione perfetta tra ciò che sono le eccellenze della birra, ma anche tutte le eccellenze dell'enogastronomia napoletana. Nomi eccellenti che ovviamente accompagneranno un percorso suggestivo, che identificherà ovviamente nella sua grandezza sia tecnica ma anche gustativa della birra.